Decine e decine di lettere, corrispondenza varia, abbandonata nei cestini per i rifiuti dei giardini pubblici di via Mantegna a Villanova di Campo San Piero. La segnalazione era arrivata qualche mese fa da un residente che aveva notato la presenza a Villanova di un portalettere che si stava sbarazzando della posta. Le indagini erano partite subito e la polizia locale è riuscita così ad individuare l'autore. Si tratta di un postino, 32enne, di origine marocchina. Gli agenti avevano recuperato circa 50 buste contenenti bollette di diverse società che forniscono il servizio di energia elettrica, gas e acqua della zona. Grazie al sequestro del materiale sono risaliti al nominativo dell'addetto responsabile del recapito della corrispondenza. L'uomo è stato denunciato per il reato di soppressione di corrispondenza che prevede una pena fino a un anno di reclusione. E' inoltre stato immediatamente licenziato dalla società addetta al recapito. Grazie a tutti.